Salve a tutti cari fratelli e sorelle, Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Stiamo qui a vedere cari fratelli e sorelle una nuova eruzione dell'Etna, come potete vedere dalle immagini, qui stiamo sul Local Team, che è un canale YouTube, qui lo vediamo in maniera di diretta, dove purtroppo è il sesto giorno di parrossismo in otto giorni. Una cosa veramente incredibile che sta avvenendo qui proprio nell'Etna, quindi diamo comunque novità e notizie su questo, preghiamo tanto cari fratelli e sorelle perché è una situazione veramente disperata e incredibile, questo è quello che sta avvenendo attualmente sull'Etna. Le immagini parlano chiaro, noi mettiamolo tutto nei cenagoli di preghiera e che il Signore abbia misericordia di tutti noi. Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria.